Ok, buonasera, sono Santo Cascio, consigliere comunale eletto per questo mandato. Rientro in questa sala dopo 46 anni. Devo dire che ho trovato le stesse sedie però e non sono cambiate, però spero che cambi invece il sistema di far politica in questo mandato e che non sia legato alle logiche di partito o di appartenenza, ma che davvero sia un servizio a tutti i cittadini. Spero intanto in questo metodo nuovo perché i cittadini si sono disaffezionati non tanto alla politica ma al modo di far politica. Vorrei dare un contributo al di là dei contenuti dei singoli provvedimenti e dei libri che prenderemo in questo nuovo sistema di far politica che è vicino ai cittadini e per i cittadini. Quindi politica come servizio e non come potere. Grazie.